Allora siamo al premio Sette Colli organizzato da Fabrizio Pacifici che vediamo qui vicino a noi però siamo con Stefano Rizzo, buonasera a tutti, grande esperto di calcio grande esperto speriamo, insomma ci mettiamo sempre al massimo dell'impegno tutti noi di Passione del Calcio un sito che sta andando abbastanza bene passionedelcalcio.it un sito molto completo, anche legato a un programma radio che adesso partì la nuova edizione anche con la giornalista Erika Eramo Erika Eramo che vediamo qui di fronte a noi dunque Stefano, momento importante del campionato, Roma-Lazio, derby e Napoli-Juve insomma, un momento decisivo forse del campionato, importante, potrebbe essere una svolta la Roma è a un punto dalla Juventus, però insomma cosa ne pensi, cosa prevedi al termine di questa giornata? un derby è sempre difficilissimo pronosticarlo, è difficile fare un pronostico per quanto riguarda un derby sfugge un po' a tutte le logiche, è chiaro che la Lazio ci arriva in grande spolvero la Roma forse un po' meno dal punto di vista fisico, sta raccogliendo punti ma lo sta facendo con grosse difficoltà è una Roma che potrebbe andare in difficoltà se è aggredita, se la Lazio dovesse riuscire a fare una partita molto pimpante e forte potrebbe mettere in difficoltà i giocatori rossi che se aggrediti vanno in difficoltà mentre per quanto riguarda la Lazio deve stare attenta a non concedere troppi spazi alla Roma perché ha dei giocatori velocissimi tra i quali gli Aic e soprattutto Gervinio non bisogna concedere spazi alla Roma, Gervinio non ci sarà e ci sarà Florenzi a destra Totti gioca? Totti sì come punta centrale, ci sarà Totti come punta centrale come al solito allargerà gli spazi anche per gli inserimenti degli esterni e poi sarà molto importante la partita a centrocampo perché due o tre giocatori a testa sono veramente formidabili per quanto riguarda questi reparti di ambe e due le squadre non ci sarà Ulic invece l'autore del gol del derby nella finale di Coppa Italia vinto dalla Lazio 2013 2013 e brucia ancora brucia per i giallorossi per i giallorossi brucia tu sei tifoso viola esatto sono viola infatti in quei momenti mi concentrerò più sul Fiorentina Valermo però poi dopo rivedrò tutto anche per quanto riguarda Roma-Lazio e poi in serata appunto e parliamo di Napoli-Juventus una partita che recentemente è stata appunto la finale della Supercoppa Italiana in cui hanno triunfato gli azzurri ai calci di rigore una partita tirata una partita dove la Juventus non è riuscita a chiudere forse l'errore a mio avviso principale è stato quello del commesso dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri perché ha tolto Andrea Pirlo in una partita secca dove comunque non doveva risparmiarlo perché a ridosso c'erano solamente le vacanze natalizie non si può togliere un giocatore determinante come Pirlo ricordo che tra l'altro nella carriera di Allegri forse pesa anche il personaggio Pirlo perché lo ha eliminato con troppa leggerezza ai tempi milanisti proprio per la gioia dei Juventini che hanno riscoperto un campione hanno riscoperto un campione che ha fatto vincere senza dubbio è stato uno degli artefici degli scudetti di Antonio Conte della Juventus di Antonio Conte Bene Stefano, allora grazie per tutte queste informazioni quindi il pronostico secco così devi rispondere con una parola sola a partita allora Roma-Lazio? È difficilissimo Una parola Fai uno X o due da schedina diciamo, da totocalcio vai Roma-Lazio Io dico per la bellezza del campionato mi piacerebbe che vincesse il Lazio e vincesse il Napoli Così rimane tutto invariato Rimane tutto invariato quindi Accorcia minimamente Ma se la Fiorentina riesce a vincere col Palermo non può lottare per lo scudetto però comunque si creerebbe un po' più di fascino Benissimo Benissimo, ti chiediamo, bocca al lupo seguiremo sempre più da vicino il tuo sito ricordiamolo di nuovo Ok, passionedelcalcio.it Ok, grazie a te Grazie a te